ciao a tutti amici di the room view ben trovati eccomi qua di ritorno con un unboxing il primo per quanto riguarda play on picture e in questo caso paramount per il mese di febbraio andiamo andremo a parlare a breve andremo a scoprire a breve la steelbook di piramide di paura non era mai uscito in blu ray ufficialmente in italia c'è una versione spagnola con audio italiano di diciamo piratesca fattura e in questo caso invece finalmente abbiamo il prodotto ufficiale prima di andare a vedere la steelbook però vi ricordo che se vi interessa questo canale vi consiglio di iscrivervi e una volta iscritti di attivare la campanella in alto per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video e se vi interessa questa steelbook in particolare io vi lascio il link ad amazon in descrizione che uno dei vari store online che la vende e ancora di più se vi è piaciuto questo video mettete un bel like così mi fate capire che quello che vi porto vi interessa ma torniamo a noi andiamo a scoprire la steelbook di piramide di paura ovviamente come al solito c'è il canonico flyer con tutti i vari dettagli non ci sono extra purtroppo in questa steelbook e nonostante venga definita edizione diciamo special edition in questo caso edizione limitata ma in realtà l'unica cosa che ha delimitato è appunto la steelbook non so se poi ci sarà una ristampa in amarai finora almeno per quanto riguarda i 4k la paramount lo sta facendo vi ricordo che paramount in italia distribuita da play on picture ma andiamoci a scoprire la steelbook devo dire che non è niente male questa dall'altro è proprio la copertina utilizzata dall'azienda spagnola per il suo blu ray da roccato il master è più o meno il medesimo ovviamente c'è un miglioramento tangibile quanto riguarda compressione e quant'altro ma il master è più o meno è quello quello spagnolo in più però ha un making of di circa un'ora che qui purtroppo non troviamo ovviamente era in inglese con i sottotitoli in spagnolo ma in questo blu ray troviamo appunto il film in versione ufficiale con anche i sottotitoli italiani ovviamente per guardarlo anche in lingua originale se non l'avete mai visto è un bellissimo film su un giovane sherlock holmes tra l'altro con la produzione del film di steven spielberg e quindi nel progetto c'era anche steven spielberg e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro è un titolo che magari non è conosciuto da tutti però è veramente un gran una gran bella avventura lo definirei quasi un harry potter in versione a sherlock holmes io ve lo stra consiglio fatelo vostro perché se non l'avete mai visto ne resterete secondo me sorpresi e per questo video ragazzuoli è tutto noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao ciao a tutti